... ... Polda vuol dire semplicemente buca. Queste bunche sono sempre state usate fin all'epoca più remote anche come discarica. E quindi, following himえば le vittime all'interno della folda, si caricava anche un significato simbolico molto forte. voleva dire che voi siete gli scatti dell'umanità e noi non riconosciremmo neanche la sepoltura non è il colpo amica no, è proprio l'unignazione dell'avversario la violenza, le mutilazioni tutto questo fa parte di un rituale questi massacri creano un terrore nella popolazione italiana perché dove arrivano i partigiani uloslavi arrivano le sentenze e le eliminazioni e la politica e la storia e i nazionalismi che hanno creato grandissime divisioni ma noi siamo stati anche aiutati dagli istriani di etnia slava e poi è iniziato la storia di tutti gli esili tutti quanti sono andati in dei campi che ci venivano assegnati dove venivamo raccolti e tenuti sotto controllo non si fidavano, chi erano questi qui con questa parlata strana eppure eravamo italiani, avevamo deciso di lasciare le nostre terre pur di non perdere la nostra italianità e questa è una storia negata e non raccontarla, raccontare cose diverse è veramente... grudel grazie a tutti 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 nel nostro settembre nel 143 c'è l'armistizio,cipato generale di Badoglio dichiara la resa senza condizioni e potete immaginare cosa può accadere nel contesto barcanico caos in totale. Vengono comunicate poco e male le informazioni sull'armistizio, i comandi non sanno bene come memorarsi e questo fa sì che i vari reparti si comportino ogni lavoro su. Le popolazioni italiane di Darmazia, di Fiume e dell'Istia sono sotto l'occhio dei partigiani comuni siglosali che stanno vincendo la guerra. Cominciano ad arrivare sulle coste che erano la parte abitata probabilmente dai italiani del litorale, dall'interno sia i partigiani sia degli abitanti islami del territorio che devono qualche voto da saldare con gli italiani. Ci sono anche molti italiani per indicare quelli che rappresentano sul territorio gli elementi chiave della identità italiana di quei posti e quindi vanno a prendere non solo l'ex squadrista fascista, il podestà, ma vanno a prendere anche i simboli dell'italianità come i carriere, le guardie di finanza, il farmacista, il padro, i simboli di un nemico sociale, cioè di quello che fino al giorno prima ti aveva come manodale, ti aveva come massa dipendenza, ti aveva come donna di servizio. E qui inizia il ferrocco della persecuzione nei confronti degli italiani nella prima fase di quello che era chiacchiava, il periodo delle forze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.